Ma le università telematiche sono davvero utili? Come vengono percepite dai selezionatori? Il rapporto AMBUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ha finalmente stilato la classifica delle migliori università telematiche presenti in Italia, prendendo in considerazione nella valutazione indice di gradimento degli studenti, tasso di occupazione e salari minimi. E noi qui sul canale oggi siamo pronti per analizzarle. Io sono Valerio Vilani e ti do il bentornato sul mio canale e in questo nuovo video per la rubrica Lavoro da sogno, la rubrica dedicata esclusivamente all'orientamento professionale. L'obiettivo del video di oggi è andare a scoprire quali sono le migliori università telematiche presenti in Italia e come sempre non fermarci a questo ma andare a vedere anche in quali casi il sottoscritto consiglia di frequentare un'università telematica e quando è veramente utile sul nostro profilo e soprattutto come vengono considerate dai selezionatori. Come sempre prima di iniziare voglio invitarti a lasciare un like per supportare i contenuti che pubblico ed iscriverti al canale attivando la campanellina per non perderti i prossimi. Per te sono attività gratuite ma per me sono fondamentali per sostenermi e supportarmi nello sviluppo di questi nuovi contenuti. Inoltre per coloro che hanno bisogno di un supporto per la ricerca di lavoro, colloqui, link ed in sviluppo carriera ti ricordo che in descrizione trovi sempre tutte le mie risorse sia gratuite come la newsletter che utilizzo per distribuire pdf e materiale didattico come il listone delle domande al colloquio o la salary guide che presenta tutti i lavori presenti nel nostro mercato di lavoro e le relative retribuzioni e poi ci potete trovare anche i servizi premium come la possibilità di prenotare incontri di consulenza direttamente con me, i miei corsi e la career academy. Ora andiamo a vedere le migliori 10 università telematiche presenti in Italia secondo la classifica stilata da Lambur che vi ricordo ha tenuto in considerazione l'indice di gradimento e il tasso di occupazione degli studenti e soprattutto a chi consiglio questo percorso di studio. Ad oggi le università telematiche presenti in Italia sono 11 in tutto e fuori dalla top 10, fuori dalla lista con giudizio D e precisamente un indice di gradimento di 3,26 ci troviamo Italian University Line che a detta dei propri studenti è da evitare. Ad aprire la classifica al decimo posto ci troviamo un'altra università che diciamo così non sta proprio brillando anch'essa con un giudizio di D e un indice di gradimento di 4,17 e cioè Università Telematica Leonardo da Vicci. Al nono posto troviamo l'università telematica I Campus con un giudizio di C e un indice di gradimento di 4,21. All'ottavo posto troviamo Università Telematica San Raffaele con giudizio C e punteggio 4,33. Da qui in poi iniziamo a salire un po' finalmente con le valutazioni degli indici di gradimento. Al settimo posto troviamo Università Telematica Unitelma Sapienza con giudizio C e punteggio di 4,88. Al sesto posto poco prima della top 5 troviamo Università Telematica Niccolò Cusano con giudizio C e punteggio di 5, tondo tondo. Al quinto troviamo Università Telematica Guglielmo Marconi anche qui giudizio C e anche qui punteggio di 5,05. Al quarto posto con distacco netto su tutte le altre precedenti troviamo Università Telematica Giustino Fortunato con giudizio C e punteggio indice di gradimento di 5,5. Ad aprire la top 3 sul gradino più basso del podio troviamo Università Telematica Mercatorum anche essa con giudizio C e punteggio di 5,51. Al secondo posto troviamo Unipegaso, sempre giudizio C e punteggio di 5,55. E al primo posto con enorme distacco su tutte le altre nonché l'unica con indice di gradimento con giudizio B troviamo l'Università Telematica Internazionale Uninet 1 con, come ho detto prima, giudizio B e punteggio di 6,7. Raga, la classifica delle migliori Università Telematiche parla da sola nel momento in cui vogliamo sceglierne una però ora passiamo al succo del video e cioè a che tipo di profilo consiglio un'Università Telematica e sulla base di cosa dobbiamo sceglierla. Personalmente consiglio l'Università Telematica soltanto in due casi. Punto primo, siamo professionisti che lavorano che già sono inseriti in un mercato del lavoro riscontriamo che però il nostro percorso accademico è debole ad esempio abbiamo soltanto il diploma non abbiamo fisicamente tempo per intraprendere un percorso di laurea triennale classico e quindi dobbiamo rivolgersi ad un'Università Telematica che ci può consentire di seguire gli studi, prendere la laurea senza però doverci licenziare o togliere tempo al nostro lavoro. Il secondo caso invece consiglio l'Università Telematica a tutte quelle persone che per n motivi, sia logistici sia personali non possono frequentare un'Università in presenza non possono frequentare un'Università classica e quindi sono costretti ad iscriversi ad una telematica. Direi che questi sono tutti i casi. Ora ti dico un po' di verità l'Università Telematica non è mai meglio dell'Università Fisica. Come dico spesso il valore oggettivo dell'Università in presenza è nel networking, nei lavori di gruppo, nel conoscere persone nello stringere relazioni. Tutto questo non esiste nella telematica. La risposta è che se non rientriamo nei casi in cui ho elencato in precedenza non c'è nessun motivo per preferire una telematica ad un'Università classica. Un'altra verità un po' meno scomoda in questo caso è che non è vero che i recruiter vedono di malocchio l'Università Telematica. Il scetticismo dei recruiter legato all'Università Telematica sta pian piano calando soprattutto se la nostra scelta di frequentare questa Università è dovuta a impossibilità logistiche di fare una Università classica o perché stiamo lavorando o per i motivi che vi ho elencato sopra. Quindi queste sono le verità e questo è il tipo di profilo che per me può fare un'Università Telematica. Ora passiamo proprio alle materie, alle discipline. Cosa conviene studiare? Cosa conviene fare? Per quanto riguarda le lauree triennali vanno bene tutte. Se stiamo lavorando ci serve una laurea in qualcosa in linea con quello che stiamo facendo o comunque una laurea per valutare un cambio percorso professionale senza lasciare lavoro, vanno bene tutte. Sulle magistrali invece il discorso cambia. Le consiglio soltanto in un caso. Il caso in cui il nostro obiettivo professionale richieda soltanto una laurea magistrale che non possiamo in nessun modo sostituire con un master o con una magistrale in un'università in presenza. Ovviamente c'è sempre da considerare una questione di budget ma come vi ho spiegato anche per bene nel video dedicato ai master che vi linko qui sopra generalmente triennale più master è molto meglio come percorso rispetto a triennale più magistrale telematica. Quindi se il nostro obiettivo è riqualificarci nel mercato del lavoro perché abbiamo individuato nel nostro percorso di studi un punto debole del nostro profilo la laurea triennale telematica è assolutamente approvata. Poi per gli step successivi dobbiamo valutare sulla base dei casi specifici. In questo caso ponderate la scelta. Se avete qualche domanda potete farla sotto questo contenuto e mi raccomando prendiamo sempre la scelta più funzionale per il nostro obiettivo finale. Raga, anche oggi abbiamo messo tantissima carne a fuoco abbiamo visto sia le migliori università telematiche sia in quali casi le consiglio condividete questo contenuto con amici, amiche, colleghi e colleghe che sono interessati a questo tipo di percorso ma che ancora non hanno le idee chiare e per il video di oggi è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate grazie per avermi ascoltato e alla prossima!